Salve a tutti, Nicola Andrini, siamo nel box CrossFit Pistoia per presentarvi la programmazione di giovedì 28 giugno 2018. Qual è il lavoro di oggi? Lavoriamo a gruppi, lavorare a gruppi è estremamente divertente, fa community, fa socialità, aiuta le persone a stare insieme, motiva l'allenamento e soprattutto suddivide il carico e certe cose che non immagineremo neanche di poter fare da soli in team, non dico diventano agevoli, però assolutamente affrontabili. Il lavoro di oggi sono 15 km a row, questi 15 km devono essere suddivisi in mini sprint da 250 metri, ogni mini sprint da 250 metri gli atleti si alternano, quindi uno lavora e due ripostano ciclicamente. Sono mini sprint molto intensi perché poi la persona avrà il tempo di riposarsi per circa 45 secondi, un minuto nel tempo che gli altri stanno lavorando, lo moltiplichiamo per i due partner e ci sono potenzialmente due minuti di riposo, quindi la persona deve tirare al massimo delle sue possibilità perché ha buon due minuti per recuperare. La distanza che assegneremo agli atleti esperti è quella di 15 km, la distanza che assegneremo agli atleti intermedi è di 11 km e la distanza che assegneremo agli atleti principianti è di 7 km, però rimangano gruppi di 3 e scambiarsi sempre o nei 250 metri. Chi non avesse a disposizione un numero sufficiente di rower può utilizzare la sole bike, lo skierg o suddividerla in shuttle run e squat o altri movimenti che comunque devono raggiungere un obiettivo di continuità ciclicometabolica. Vi ringrazio per l'attenzione e un grosso saluto da Nicola Andrini di CrossFit Pistoia.